buongiorno a tutti sono irene torrente benvenuti diciamo a questo nuovo webinar sulla transizione digitale è fatto nell'ambito scusate del progetto fast e ambito a e oggi parleremo di degli obblighi per i comuni in tema di accessibilità e anche un po appunto di quello che è la normativa e di quelli che sono gli adempimenti necessari ne parleremo appunto con due colleghi due relatori appassionati insomma non solo che non solo esperti ma appassionati al tema che da tanti anni si occupano di questo argomento e che insomma ove possibile insomma lo sostengono diciamo in tutte lo sostengono in tutte le sedi e il webinar diciamo è uno dei webinar è il terzo se non sbaglio webinar di questo secondo ciclo che stiamo facendo per accompagnare i piccoli comuni che hanno aderito alla manifestazione di interesse dell'ambito a sono siete in 285 e nel mettersi a passo con gli obblighi normativi del digitale sono tanti noi sappiamo che appunto le risorse in capo alle piccole pubbliche amministrazioni sono anche poche e quindi questo progetto è nato proprio con l'obiettivo di accompagnarvi di affiancarvi dove possibile con degli interventi di tipo formativo e di consulenza su alcune diciamo di quelle che sono le tematiche le cose insomma prioritarie da fare nel passaggio alla transizione digitale c'è ovviamente stata in questo periodo in questo ultimo anno soprattutto molta offerta anche di finanziamenti con i bandi del pnr e quindi di misure volte proprio ad incentivare a migliorare diciamo la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e però spesso insomma ecco non sono sufficienti soldi quindi c'è anche necessità di un accompagnamento tecnico una consulenza diciamo su tante cose che insomma non sono poi sempre così semplici noi proveremmo diciamo con il nostro un nostro supporto a rendere queste attività da fare che sono appunto tante anche considerate le risorse limitate a disposizione dei piccoli comuni per cercare diciamo di raggiungere con voi gli obiettivi diciamo che se vi siete dati per programmare insieme diciamo un percorso verso la digitalizzazione delle vostre amministrazioni e oggi parleremo di accessibilità un tema diciamo che non è proprio diciamo come dire molto molto noto però è anche molto importante è un tema che parla appunto di inclusione sociale è un tema che appunto punta diciamo un'evoluzione tecnologica che cerca di trovare delle soluzioni tecnologiche che siano sostenibili e accessibili per supportare in diciamo in tutto in tutto il loro percorso le persone con disabilità nell'accesso ai ai siti ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni quindi oggi cercheremo di capire insieme perché è così importante parlo e ognuno nel suo piccolo diciamo anche nella costruzione dei siti dei servizi eccetera può dare può dare un supporto in questo senso ci sono poi ancora degli ademplimenti che sono necessari sulla base appunto sono gli obblighi la dichiarazione di accessibilità e gli obblighi di accessibilità che ciascuna amministrazione deve definire e deve pubblicare sul proprio sito e quindi i nostri relatori alberto masini e gianluca finito vi parleranno di questo a conclusione del webinar ci sarà poi un'intervista e una testimonianza da parte fatta dal due colleghe dell'unione dei comuni del modenese che ci racconteranno un po che cosa è significato per loro saranno intervistate da claudio forgieri un altro nostro consulente e collega e ci diranno un po qual è la loro l'esperienza che hanno attivato nel nel loro comune quindi credo che possa essere di grande interesse per tutti anche diciamo questa testimonianza di una piccola amministrazione particolare poi di un'unione insomma di amministrazione quindi io chiederei ad alberto naturalmente vi ripeto come ogni volta che tutte queste sessioni saranno registrate che potrete trovare la registrazione poi sulla pagina web che credo stiate vedendo e se ve l'ho condivisa no forse non ve l'ho ancora condivisa eccola qui usatemi eccola qui quindi sulla dove avete trovato dove trovate la notizia troverete anche diciamo il link alla alla registrazione del webinar e le slide che i nostri colleghi ci ci presenteranno adesso interrompo la condivisione vi ricordo che poi comunque ve lo ricorderò anche dopo che alla fine del degli interventi dei colleghi ci potrà c'è uno spazio diciamo per vostre per vostre domande cui cercheremo di rispondere e poi sarete portati diciamo anche su una pagina in cui vi chiediamo di esprimere insomma il vostro eh gradimento eh rispetto diciamo a questo a questo webinar si tratta insomma di un di un piccolo questionario di richiede insomma qualche secondo per essere compilato e a noi appunto fa molto piacere avere diciamo vostri eventuali proposte e comunque il vostro giudizio su questa su questa attività quindi prego alberto di avviare il video bene buongiorno anzi buon pomeriggio anche da parte mia e io cercherò di di farvi entrare nel mondo della della disabilità anche se bisognerebbe avere dei tempi molto lunghi per capire eh certe esigenze e certe situazioni ma cercherò in un tempo sufficientemente ristretto di darvi un'idea partendo da una cosa che io eh continuo a ritenere estremamente importante cioè come si parla della disabilità ora la disabilità è sicuramente un tema che ci che ci tocca ci tocca quando la vediamo per strada ci tocca emotivamente e per cui ogni volta che se ne parla sia sempre il timore di dire le parole sbagliate di fare le cose sbagliate per cui vi rubo proprio i i primi minuti di questa chiacchierata per definire insieme quali sono le parole giuste quali sono le parole sbagliate e lo farò partendo da una eh da due articoli di di giornali questo già abbastanza vecchio del 2012 eh con la vigneta che io trovo sempre molto simpatica io portatore di handicap ma che cavolo dici non vedi che è un pappagallo allora nel nel blog che che veniva pubblicato sul Corriere e si parlava delle parole corrette ce ne sono alcune vabbè handicapato sappiamo che in Italia non non si usa più ad esempio è perfettamente adeguato in in Francia come termine in Italia a un certo punto c'è stata una moda mi mi focalizzo su questo solo perché è una cosa che mi dà personalmente fastidio una moda di utilizzare il termine diversamente abile è una moda uscita nel mondo giornalistico e veniva utilizzata e viene purtroppo tuttora utilizzata ma anche per una forma di politically correct eh abbastanza fastidiosa cosa vuol dire diversamente abile che non ci vedo e quindi ci sento il doppio perché ho un'abilità più sviluppata no non ci vedo e quando devo attraversare la strada farò più attenzione ai rumori per capire se sta passando qualcosa o qualcuno ascolterò con più attenzione se il semaforo ha un ciccalino eh per per i non vedenti ma non è che ho sviluppato un udito particolarmente fine e potrei fare anche ehm altri esempi eh addirittura il diversamente abile a un certo punto era diventato anche il diversabile eh insomma basta come si dice qua le parole sono importanti e vediamo come andare avanti sulle parole ehm mi cito un altro ho detto un altro articolo qua passiamo sull'internazionale una lettera ehm a Claudio Rossi Marcelli ehm uno scrive una già da scrivo ho saputo che nel campo estivo che frequenterà mio figlio di sette anni ci sarà anche un bambino down come devo prepararlo a giocare con lui beh innanzitutto non definirlo un bambino down a me fa molto sorridere ehm quando quando fa l'esempio dice non si dice un bambino gamba rotta ma si dice un bambino con una gamba rotta e quindi si dirà anche un bambino con la sindrome di down e non è un down non è è una persona che ha una caratteristica ben precisa ed è la persona che l'attenzione a cui dobbiamo andare non alla patologia o alla sindrome che non caratterizza la persona ma di cui la persona è è affetta e ce lo ricorda in maniera molto chiara la convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità che ehm ci ci suggerisce quale linguaggio eh utilizzare in particolare già dalla sua definizione questa è la traduzione italiana e si si nota l'utilizzo del termine persone con disabilità quindi bambina con la sindrome di down persone con disabilità l'attenzione è sulla parola persone e non sulla disabilità vediamo la definizione che per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche mentali intellettuali o sensoriali che in relazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri allora da questa definizione ehm abbiamo veramente definito la la il mondo della disabilità innanzitutto la la disabilità non sono le persone su una sedia a rotelle come a volte eh pensano ehm coloro i quali si devono occupare di barriere architettoniche quindi ho fatto la rampa quindi ho risolto il problema dell'accessibilità ai miei uffici no ho risolto il problema per le persone con una disabilità motoria esistono anche disabilità eh sensoriali prima vi facevo l'esempio della della cecità ma anche la sordità e e in particolare disabilità non visibili ad esempio le divise le le disabilità cognitive o come dice la la convenzione mentali o intellettuali sono disabilità che spesso non vediamo eh e e e a cui spesso non pensiamo neanche quando scriviamo un testo estremamente complesso eh il il classico testo in eh in eh in legalese il testo eh dell'antilingua che che ci raccontava eh di cui ci parlava Italo Calvino se non sbaglio una cinquantina d'anni fa benissimo stiamo creando una barriera nei confronti di chi ha una limitata comprensione del 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 linguaggio e si va di bene adesso non 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 voglio spostarmi dalla della disabilità ma scrivere in modo chiaro è un eh servizio che si fa alle persone con disabilità ma anche alle persone con un livello eh più moderato di scolarizzazione o alle persone che sono in Italia da poco tempo come le le persone eh da da poco immigrate che fanno ovviamente fatica a capire i nostri incisi e le nostre perifrasi che mettiamo ogni tanto nei nei nostri testi dell'amministrazione quindi il primo punto che vorrei eh ricordare è che la la disabilità è un mondo molto più ampio ed un mondo anche non sempre visibile però qua viene dato un aspetto molto importante su cui poi tornerò anche un attimo che la disabilità non esiste di per sé sì la menomazione fisica mentale eccetera è è presente ma è un ostacolo nell'interazione con le barriere per cui il problema è l'ostacolo nella partecipazione e nell'uguaglianza nel confronto del delle barriere quindi è vero che togliendo le barriere non togliamo la menomazione ma ridiamo una persona un diritto una o più persone un diritto quindi un aspetto fondamentale da ricordare è che la disabilità esiste nella interazione con le barriere parlare di accessibilità come come parleremo oggi durante questa chiacchierata eh significa lavorare nell'eliminazione di una barriera ben precisa che è quella della comunicazione tramite web e tramite app e tramite app con i nostri i nostri cittadini allora vediamo ok non vi ho riportato l'intera convenzione onus no stanotte eravamo ancora qua leggere è un testo eh che che l'invito a guardare con 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 grande attenzione perché ci sono tantissimi spunti alcuni li ho li ho voluti riportare eh le lettere sono proprio le lettere del testo quindi come vedete ne ho ne ho riportati solo solo pochi e mh e alcuni alcuni che vi voglio evidenziare allora il punto i riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità allora tutte noi persone con o senza disabilità siamo diversi mh anche le persone con disabilità sono diverse e non è che per essere ancora scusatevi se mi ripeto politically correct allora dobbiamo dire eh no no è vero siamo tutti uguali siamo tutti no dobbiamo avere tutti gli stessi diritti ma siamo tutti diversi e nella diversità dobbiamo cercare di usufruire e di poter accedere agli stessi servizi e gli servizi che diamo sono servizi che devono dare alle persone con disabilità punto n autonomia e indipendenza individuale cioè una persona con disabilità deve essere messa nelle condizioni di poter decidere autonomamente e scegliere autonomamente ad esempio se aderire a un'iniziativa del comune o se non aderirne ma se la persona con disabilità non può arrivare a conoscere l'esistenza di questa iniziativa sto facendo un esempio ovviamente e è ovvio che a questo punto stiamo ledendo l'autonomia e l'indipendenza individuale eh ultimo punto di questo preambolo no oggi oggi è il 7 marzo domani è l'otto e e dovrebbe esserlo tutti i giorni il punto Q è un punto eh che forse in altre culture rispetto a alle nostre europee è ancora più evidente però purtroppo è evidente anche qui dobbiamo riconoscere che le donne e le ragazze con disabilità spesso corrono maggiori rischi sia all'interno che all'esterno dell'ambiente domestico e sono rischi di violenza sedizi e abusi di essere dimenticate trattate con trascuratezza maltrattate sfruttate ricordiamo sempre che una donna con disabilità è un soggetto che ha maggiori rischi di 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 discriminazione se non di 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 violenze e di e di abusi eh anche sulle definizioni che sono all'articolo 2 ce ne sono veramente tante io vi voglio soltanto evidenziare due punti eh quello di accomodamento ragionevole dove si parla di modifiche e adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo allora la convenzione ONU seguendo un po' la tradizione ehm della 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 prima legge sulla disabilità negli Stati Uniti la la cosiddetta section 508 eh che faceva parte era una sezione del disability act che se non ricordo male era stato emanato inizialmente negli anni settanta quindi parlava prevalentemente di di accesso fisico agli ambienti e quindi alla rimozione delle barriere architettoniche e poi in un secondo momento ha incluso eh i siti web internet ed è stato un po' il il faro e la linea guida che che tutti abbiamo seguito tutti nel nel mondo abbiamo seguito bene dicevo partendo da dal prendendo ispirazione dalla dalla legge statunitense eh è stato introdotto il il cosiddetto carico sproporzionato ehm nella 508 si parlava di Andrew Burden nella legge italiana ehm è stato utilizzato il il una definizione simile a quella della della convenzione ONU ora che cosa significa carico sproporzionato eccessivo che non si chiede all'amministrazione o a chi fornisce servizi di fare cose che costano più di quanto si possa permettere l'ente stesso quindi non non l'accessibilità non deve diventare un non deve spaventare come una cosa in cui si devono mettere soldi eh in quantità sproporzionata perché la legge stessa anche la 4 che vedremo eh ci dice di eh comunque fare degli accomodamenti ragionevoli e deve essere appunto ragionevole il termine viene lasciato vago di proposito perché quello che è ragionevole per un ente potrebbe non essere ragionevole per un altro eh diciamo che fare un sito web eh accessibile e e qua viene il punto successivo e molto probabilmente ragionevole perché lo sforzo è veramente minimo altre cose tipo tipo sulle barriere architettoniche a volte richiedono degli investimenti che magari non 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 sono non sono nella disponibilità economica di di un ente eh o di un fornitore di servizi la progettazione universale in si eh in sintesi eh indica la progettazione di prodotti eh programmi servizi utilizzabili da tutte le persone ora quando voi ehm ehm realizzate il il vostro il vostro sito del comune o meglio quando il vostro fornitore del del sito comunale eh vi eh presenta eh il il sito che diventerà il vostro sito è importante che il fornitore stesso abbia ragionato in termini di progettazione universale cioè abbia progettato pensando già alle regole dell'accessibilità del sito se un servizio in questo caso sto facendo stiamo facendo l'esempio del sito nasce con i criteri di progettazione universale quindi nasce accessibile resterà con tutta probabilità accessibile quando un sito nasce invece progettato senza criteri di progettazione universale rimetterlo a posto sarà veramente un costo spropositato e questo era un problema quando è uscita la quattro 2004 ed è un problema che 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 la la commissione interministeriale che ha scritto le regole tecniche si è posta ripetutamente perché allora eh commissione di cui tra l'altro ho ho fatto parte ci chiedevamo va bene ma quanto pagheranno le amministrazioni quanto dovranno pagare per rimettersi a posto benissimo sono passati quasi vent'anni anzi scusate sono passati esattamente vent'anni io pensavo alle linee guida di allora che uscirono nel 2005 quindi sono passati vent'anni adesso bisogna ragionare veramente in accessibility by design cioè in progettazione universale e vi ho messo ho voluto mettervi anche la definizione di eh disabilità data dall'ICF per vedere ehm l'aspetto più legato alla sanità ICF è una iniziativa dell'organizzazione mondiale della sanità ehm come come immagino sappiate ehm l'organizzazione mondiale della sanità eh emana e tiene aggiornata del ehm dei codici dei criteri di codifica della ehm relativa alle malattie alla salute per cui dice eh una persona ha uno scompenso cardiaco se sono presenti x di questi n eh sintomi quindi ragione in termini di dovrebbe funzionare togliamo delle funzionalità allora ha una patologia invece il l'ICF ragiona in maniera contraria cioè definisce tutti i funzionamenti di una persona quindi è indipendente ad andare al lavoro è indipendente ma ha bisogno di supporto e non è indipendente eccetera eccetera e questo vale con hanno codificato un po' tutti gli aspetti della vita quotidiana dalla vita ehm personale a casa fino alla all'ambiente lavorativo e eh danno la possibilità mediante gli schema ICF di eh definire cosa una persona sa fare in autonomia o con autonomia eh limitata e questo ad esempio è molto utile nell'inserimento lavorativo eh quello previsto dalla 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 sessantotto eh delle persone con disabilità perché sapere cosa una persona sa fare in autonomia sa fare con un ausilio o non sa fare ci permette di introdurre una persona nell'ambiente più corretto eh a livello lavorativo e appunto se leggiamo la loro definizione so che ho detto ho raccontato l'ICF che insomma una serie di volumi abbastanza corposi l'ho raccontato l'ho concentrato in due minuti però volevo darvi un'idea appunto di questa classificazione che parte dall'idea di funzionamento e non dall'idea di malfunzionamento come l'ICD cioè la classificazione delle malattie. Allora la definizione qua è la disabilità viene intesa come la conseguenza o risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo fattori personali e fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui egli vive. Quindi ancora più forte rispetto alla convenzione alla convenzione ONU la disabilità è una relazione tra uno stato personale e cioè fattore personale e fattori ambientali. La nostra missione nostra e vostra in qualità di fornitori di servizi è proprio di fare in modo che la complessa relazione tra fattori personali e fattori ambientali eh sia eh portata avanti in in modo di ridurre gli ostacoli nel modo più eh esteso e più e più appunto accessibile. Vi ho accennato alla legge quattro duemila e quattro ehm come come chi conosce questa legge ha notato eh dopo che la eh convenzione ONU eh è stata recepita anche in Italia la legge ha cambiato nome eh proprio perché allora eh la legge si chiamava a favore dei disabili e invece adesso è diventata le persone con disabilità. Ripeto non è essere politically correct ma è una questione di sostanza su come si parla. Ehm non vi sto a scorrere tutta quanta la norma la conoscete se non la conoscete eh insomma eh non sono tantissimi articoli per cui è una lettura eh interessante. Comunque è l'impegno dello dello Stato italiano a garantire il diritto di accesso in particolare ai servizi informatici e telematici della della Pia. In realtà in una delle ultime revisioni ehm eh quest'obbligo è andato anche a privati che mh che superi un certo un certo livello di fatturato però non interessa come pubblica amministrazione come fornitore di servizi pubblici che questi servizi siano eh conforme al diritto d'accesso. Ehm nel nel definire le 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 norme e cosa significa in pratica e anche da un punto di vista tecnico essere accessibili eh la eh la 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 4.2004 eh demanda a delle regole tecniche e la definizione di eh della lista dei requisiti eh anche perché sappiamo che le tecnologie si evolvono più velocemente di quanto si può evolvere un un DPR una una norma di Stato per cui eh la la tecnica del del dell'allegato con le linee guida eh permette di essere eh più al al passo con le novità tecnologiche. Ehm le linee guida sono state emanate eh credo mh credo che ne verrà prodotto un aggiornamento ma non so ancora le le date però non è un aggiornamento che che cambi la sostanza è un piccolo aggiornamento che che poi poi vedremo qual è qual è il motivo. Comunque le linee guida sono state emanate da da Agide ormai da quasi un anno e mezzo e e sono appunto disponibili sul sito di Agide. le linee guida per quanto riguarda le specifiche tecniche richiamano eh so che eh può sembrare un po' una matriosca però insomma ehm ha un senso proprio di 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 struttura gerarchica richiamano dicevo una norma ISO quindi la la 301549 ehm questa è la versione italiana quindi è la la uni ehm emanata quindi da 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 uni ed è eh una una norma che parla di accessibilità di tante cose non solo dei 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 servizi web ma parla anche di app parla anche della documentazione parla anche del software per cui è ovvio che deve essere accessibile anche il sistema operativo eh questo non è ovviamente un un dovere del 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 comune però eh deve essere accessibile anche il sistema operativo eh deve essere accessibile anche il sistema operativo che gira sul mio computer perché se no voi potete aver fatto anche il miglior sito del mondo ma io non riesco ad arrivarci. Come regole tecniche per l'accessibilità dei siti a differenza della scrittura prima del 2005 adesso già da 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 vari anni viene utilizzata le vengono utilizzate le l'insieme di norme ehm emanate dal W3C e quindi il World Wide Web Consortium che come sappiamo ha un'iniziativa proprio sull'accessibilità web ce l'ha da da quando è stato fondato quindi dagli anni della seconda metà degli anni novanta e all'interno della del WAI cioè della Web Accessibility Initiative eh emana le WCAG. le WCAG sono le Web Content Accessibility Guidelines e sono delle linee guida che vengono condivise in in tutto il mondo per cui sono disponibili sia per i produttori di tecnologie eh per i portali che solitamente eh per i personalizzatori che solitamente sono invece aziende locali eh attualmente la conformità viene richiesta alle WCAG 2.1 perché le WCAG 2.2 sono appena state emanate proprio a fine del 2023 e diciamo che tra 2.1 e 2.2 le modifiche sono minime per cui non dovete preoccupare e tra l'altro mi prende a dire che è retrocompatibile cioè se progettate 2.2 avete conformità 2.1 ehm però insomma non dovete spaventarvi in questo eh in questo piccolo cambio di versione perché i i requisiti modificati sono veramente minimi e limitati ad alcuni aspetti non dico secondari ma non non rilevanti cioè sì rilevanti ma non impattanti ecco la parola che non mi veniva. ehm ultimo aspetto sulle WCAG che ovviamente eh devono essere ben conosciute dai vostri fornitori di dei del sistema informativo e in particolare del del portale è che eh le WCAG hanno una struttura gerarchica ehm cioè vengono definite dei principi che sono eh che sono i quattro pilastri che peraltro vengono citati nell'articolo numero uno della eh quattro duemila e quattro nell'articolo numero tre scusate della quattro duemila e quattro da questi principi partono delle linee guida e quindi vengono spiegate un po' quali sono gli obiettivi di 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 accessibilità nella progettazione di un sito. su ogni linea guida vengono messi dei criteri di successo che sono gli aspetti tecnici e verificabili tecnicamente eh per capire se si è conformi o meno al eh alle alle linee guida eh vengono dati dei livelli di conformità singola doppia e tripla la norma italiana eh si è fermata eh si è fermata giustamente credo alla doppia a. Esiste all'interno delle delle WCAG due anche una parte di eh tecniche consigliate. cioè ci sono proprio degli esempi di eh realizzazione e di programmazione però sono esempi prevalentemente informativi quindi non sono prescrittivi. e diciamo che gli esempi che vengono mostrati qua sono più per i vostri i vostri fornitori di di siti. Ora prima di salutarvi e passare la parola a Gianluca un aspetto un aspetto importante e immagino che 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 tornerà fuori nel seguito del del nostro incontro e mh è che io io più volte ho detto il fornitore del sito, il fornitore del sistema operativo e del sistema informativo comunale ma non è un compito soltanto del fornitore. L'accessibilità è un compito anche dell'amministrazione non solo in termini di eh responsabilità e di perseguibilità del del dirigente che ha fatto l'appalto per il servizio, ma anche in termini di manutenzione della della dell'accessibilità, dei criteri di accessibilità, cioè il sito realizzato in maniera assolutamente perfetta dal più bravo dei vostri fornitori non è più accessibile nel momento in cui voi pubblicate dei contenuti non accessibili, ad esempio la delibera o la determina scansionata per far vedere che l'ha firmata veramente il dirigente. quel documento eh per una eh una persona non vedente è una pagina nera, è illegibile, quindi avevate un sito perfetto avete pubblicato un documento non 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 accessibile. quindi è un lavoro che va fatto sia da parte di chi costruisce e progetta i servizi ma anche da chi pubblica i contenuti e su questo credo che qualche accenno verrà fatto anche dopo. quindi io spero di non avervi annoiato troppo e passo la parola a Dan Luca. Volevo ringraziare Alberto, mi scuso per non averlo prima presentato perché appunto oltre che una persona assai esperta sul tema è anche una persona appassionata. Ringrazio appunto anche di aver ricordato diciamo da ultimo che appunto ciascuno di noi può fare insomma nel suo piccolo tante cose nel quotidiano, ha ricordato appunto il discorso del linguaggio, ha ricordato appunto anche nel lavoro non è soltanto appunto compito dei fornitori ma ciascuno di noi diciamo ci può mettere un po' del suo anche rispetto alla consapevolezza perché magari alcune di queste cose sono cose anche un po' tecniche che non necessariamente seguiamo tutti. Però diciamo dobbiamo sapere e che è il nostro dovere diciamo dare servizi diciamo accessibili a tutti insomma e più non solo alle persone con disabilità ma anche appunto a quelle che hanno appunto un minore grado di istruzione o altro. Adesso lascio la parola a un altro collega esperto appunto ed appassionato appunto esperto di progettazione, di formazione e anche appunto di accessibilità che ci racconta un po' quali sono gli adempimenti che poi ciascun comune, ciascuna amministrazione dovrebbe seguire diciamo fare annualmente come questo, come fare questo al meglio. Grazie Già. Grazie a tutti. In questo secondo intervento ci concentreremo proprio sugli obblighi che hanno i comuni in tema di accessibilità digitale. In particolare vado molto veloce su queste introduzioni perché mi sembra che l'intervento di Alberto abbia chiarito in maniera più che esaustiva qual è l'importanza del tema che stiamo affrontando e andiamo direttamente agli obblighi. Come anticipato nell'intervento precedente esistono delle linee guida emanate da Agit che definiscono i requisiti tecnici, le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità e in un allegato anche il modello per la dichiarazione di accessibilità. Di cosa parliamo oggi? In particolare parliamo di quelli appunto che sono gli obblighi. Il primo obbligo annuale scade fra poche settimane e da qui abbiamo pensato potesse essere utile proporre questo webinar a tutti i comuni che hanno aderito al progetto FAST. Quindi entro il 31 marzo di ogni anno tutte le pubbliche amministrazioni compresi i piccoli comuni devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente. Questo è un obbligo annuale che in qualche modo porta l'amministrazione a interrogarsi su come migliorare la propria comunicazione esterna quindi verso i cittadini ma anche interna come vedremo in tema di accessibilità digitale. Un secondo obbligo sempre anche qui ricorrente che riguarda l'amministrazione tutti gli anni entro il 23 settembre è necessario pubblicare se non è stato già fatto oppure revisionare ed eventualmente aggiornare la dichiarazione di accessibilità che deve essere ovviamente preceduta da un'analisi completa dei siti web e delle eventuali app dell'amministrazione e compilare una dichiarazione di accessibilità che deve essere poi pubblicata sul sito dell'amministrazione. A partire dal sito dell'amministrazione quindi vedremo appunto questi due aspetti obiettivi di accessibilità dichiarazione di accessibilità ovviamente non potremo per questioni di tempo entrare nel merito anche della verifica tecnica però proveremo comunque a darvi alcune indicazioni utili per prepararvi al meglio alla scadenza che appunto vi dicevo sarà a settembre. Prima di parlare degli obiettivi di accessibilità interrompo un attimo la condivisione e vi propongo un brevissimo sondaggio sondaggio eccolo qui obiettivo quindi una sola domanda vi chiedo se in passato la vostra amministrazione ha già pubblicato gli obiettivi di accessibilità se lo ha fatto sempre quindi da quando è previsto questo obbligo e se lo ha fatto occasionalmente quindi se per qualche motivo non tutti gli anni è stata pubblicata oppure se non è mai stata pubblicata e ovviamente è prevista anche la possibilità di non è detto che siate a conoscenza di questa informazione questo ovviamente non ha quindi vi lascio giusto qualche istante per rispondere state rispondendo tutti abbastanza velocemente abbiamo già una buona percentuale di risposte ovviamente invito soltanto i partecipanti dei comuni a rispondere e non con le io nostri consulenti ok mi sembra che abbiano già risposto un buon numero di partecipanti quindi interrompo il sondaggio vi condivido anche i risultati quindi come vedete il 35% di voi quindi un terzo dei partecipanti a questo webinar ha pubblicato annualmente gli obiettivi di accessibilità un 20% solo occasionalmente e mentre un 20% non ha mai pubblicato gli obiettivi un 30% non non sa se se questi obblighi sono stati pubblici questi obiettivi sono stati pubblicati quindi io spero di dare delle indicazioni utili anche per coloro che hanno già pubblicato gli obiettivi anche perché come vedremo poi è cambiato il sta cambiando evolve nel tempo il sistema è la modalità per la pubblicazione degli obiettivi quindi spero comunque di darvi qualche qualche indicazione per questa scadenza che vi ricordo anche in questa slide è veramente a brevissimo quindi gli obiettivi di accessibilità devono essere pubblicati tutti gli anni entro il 31 marzo possono essere anche aggiornati nell'anno in corso e quindi l'importante è che appunto avvenga la pubblicazione avvenga entro quella data e poi eventualmente potete riaggiornarli tutti quanti gli impegni che vengono presi all'interno di questo degli obiettivi devono essere rispettati entro l'anno corrente eventualmente si possono poi ripetere anche per l'anno successivo chi è tenuto a compilarli sostanzialmente tutte le pubbliche amministrazioni quindi anche anche i comuni i comuni più piccoli chi è responsabile della compilazione del processo di compilazione come molti altri obblighi che ha la pubblica amministrazione in termini di transizional digitale ovviamente è il responsabile per la transizional digitale che avrà un suo scadenzario di obblighi e questo spero che sia tra quelli di particolare rilevanza andiamo in concreto e vediamo come compilare gli obiettivi vi anticipo che sia per gli obiettivi di accessibilità che per la dichiarazione di accessibilità è necessario e obbligatorio farlo attraverso questa applicazione di Agid che è raggiungibile all'indirizzo questo rende molto più semplice la compilazione c'è un modulo vedremo qualche screenshot più avanti e soprattutto rende anche omogene le informazioni che le amministrazioni pubblicano in termini appunto di accessibilità una volta che si accede alla pagina si va all'indirizzo che vi ho indicato è possibile accedere con la propria identità digitale Speed è necessario inserire andare a cercare il nome dell'ente o il codice IVA con cui quell'ente viene identificato e poi cliccare come vediamo da questa schermata sul link disponibile in basso accedi al modulo in questa schermata ne vengono presentati appunto i due moduli che è necessario compilare è sufficiente cliccare su accedi al modulo mentre invece se si clicca sul titolo obiettivi di accessibilità si accede a tutta una sezione informativa sempre del sito di Agid dove vengono indicate appunto dove è disponibile una guida alla compilazione alcune informazioni utili su questo obbligo vediamo un po' note entrati all'interno di questa sezione l'RTD dell'amministrazione deve andare a compilare una serie di informazioni che possono riguardare il sito web istituzionale i siti web tematici, il sito intranet oppure come vedete anche aspetti che riguardano non il sito ma la formazione interna le postazioni di lavoro e l'organizzazione del lavoro da questi screenshot ovviamente non ho riuscito a vedere quali sono le domande però in questa schermata ve le ho ripirlogate per ognuna sezione è possibile selezionare una o più interventi che è possibile fare in quell'ambito quindi appunto si va dalla formazione eccetera per quanto riguarda i siti web in particolare vedete che gli obiettivi dell'anno in corso possono riguardare interventi di tipo adeguativo o correttivo, adeguamento ai criteri di accessibilità adeguamento alle linee guida di design dei siti web dell'APA analisi dell'usabilità, interventi sui documenti, sviluppo o rifacimento del sito quindi questi sono gli obiettivi che l'amministrazione si pone per quell'anno in corso poi a distanza di sei mesi ci sarà la possibilità attraverso la dichiarazione di accessibilità di andare a verificare se questi obiettivi sono stati in qualche modo raggiunti e se hanno portato anche a un miglioramento della qualità dei servizi che l'amministrazione eroga sul web una volta che è stato compilato questo modulo sul sito di Agid viene reso disponibile un link che va pubblicato all'interno del proprio sito web e ovviamente è possibile darne evidenza anche in una notizia nella home page del sito ma quello che indicano le linee guida è di inserirlo all'interno della sezione un'amministrazione trasparente in particolare nella sottosezione altri contenuti accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati questa omogeneità anche nella pubblicazione e nell'esposizione degli obiettivi di accessibilità permette sicuramente ad Agid ma anche ai cittadini stessi di andare a verificare quali sono gli impegni che l'amministrazione ha preso per migliorare questo importante aspetto della propria comunicazione online concludo, ho raccolto una serie di risorse utili che potete trovare sul web in particolare la guida e la compilazione che è stata aggiornata pochi giorni fa e che trovate disponibile sia sul sito Agid che all'interno di quell'applicativo che vi ho brevemente presentato quindi form.agit.gov.it trovate all'interno di quel sito anche il manuale utente per poter accedere al sistema sostanzialmente riservato agli RTD dell'amministrazione in caso di problemi all'interno di questo manuale trovate anche tutta una serie di informazioni utili per superare i problemi e anche un link a un servizio di helpdesk che vi può aiutare nell'accedere al sistema vi riporto un link anche al sito di monitoraggio dell'accessibilità vedremo adesso qualche dato e un link a degli esempi in particolare ho selezionato proprio quelli del sito di Agid lo vediamo, vedete che quindi gli obiettivi vengono pubblicati tutti gli anni all'interno di questa sezione vi dicevo quindi in amministrazione trasparente e qui i link rimandano direttamente all'applicazione per cui possiamo andare a vedere quali sono gli obiettivi di accessibilità che l'agenzia si è posta per lo scorso anno quindi vedete che per ognuna di quelle sezioni che abbiamo visto sono stati previsti uno o più interventi e per ognuno sono stati indicati dei tempi di adeguamento quindi per esempio per quanto riguarda la formazione è stato previsto di fare formazione sugli aspetti normativi e sugli aspetti tecnici che riguardano l'accessibilità e i tempi di scadenza appunto la fine dello scorso anno quindi torniamo qui ovviamente avete visto la modalità di compilazione degli obiettivi è molto semplice non è un'attività che richiede eccessivo tempo però quello che è importante fare è intanto pianificare bene gli interventi che è sostenibile realizzare nell'arco dell'anno e per alcune di queste attività è opportuno anche che l'RTD si interfacci che in qualche modo dialoghi anche con gli altri uffici dell'amministrazione perché ad esempio non è necessariamente non è detto che sia informato anche su tutto quello che riguarda ad esempio le postazioni di lavoro accessibili eccetera quindi è a mio avviso un'opportunità per l'amministrazione anche per fare un po' il punto su qual è lo stato dell'arte all'interno dell'amministrazione su questo tema prima parte di passare all'altro argomento vediamo con l'altro tema della dichiarazione di accessibilità vediamo un po' quali sono i dati vi dicevo esiste questo sito sempre di Agit su monitoraggio dell'accessibilità per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni all'interno di questo sito sono disponibili i dati aggiornati sulla pubblicazione appunto degli obiettivi come vedete il trend è molto positivo sta crescendo alcuni di voi hanno detto di aver compilato tutti gli anni gli obiettivi di accessibilità ci fa molto piacere vedete che negli ultimi anni la curva è in forte crescita e al momento le amministrazioni che hanno pubblicato gli obiettivi per l'anno scorso sono intorno alle 11.000 quindi non tutto il panorama delle pubbliche amministrazioni qui non ho un grafico con la suddivisione però comincia a essere un obbligo che viene rispettato un'opportunità come dicevo che viene soddisfatta da molte amministrazioni sul sito è disponibile anche la suddivisione nelle diverse sezioni per cui vedete che gli interventi si concentrano prevalentemente sull'adeguamento del sito web istituzionale dell'internet e dei siti tematici quindi questa metà degli interventi riguardano il sito web però una buona parte riguarda anche la formazione del personale interno l'organizzazione del lavoro e le postazioni di lavoro che ovviamente sono fondamentali ricollegandomi al discorso che faceva Alberto prima è indispensabile che una dipendente con disabilità abbia garantito non abbia barriere all'accesso che riguardano appunto sia le barriere fisiche ma nel nostro caso le barriere digitali la percentuale di pubb ecco qui è un grafico che mostra il trend ormai il 44% delle amministrazioni hanno pubblicato gli obiettivi è una percentuale forse ancora troppo bassa e vedremo qui con la dichiarazione di accessibilità il piano terrenale per l'informatica della PIA di recente pubblicazione alza molto la sticella perché prevede addirittura che il 100% delle amministrazioni pubblichino entro l'anno la dichiarazione e qui vediamo anche una suddivisione per comparto con la percentuale rispetto al totale delle amministrazioni di quel settore e nel caso di comuni la percentuale è appunto intorno al 40% quindi ancora bassa rispetto agli obiettivi che ci dovremmo porre come sistema paese allora ho fatto una corsa questa vi ricordo la scadenza è a breve fra qualche settimana come progetto FASSO su questo non possiamo darvi supporto perché come sapete almeno quelli di voi che hanno già aderito al progetto prevediamo un assessment un piano di lavoro condiviso con l'amministrazione e un progetto che viene realizzato in un arco di tempo che va da alcune settimane a qualche mese quindi non ci sono nel momento i tempi tecnici per poter realizzare con voi dei microprogetti su questo argomento però proprio per questo ci sembrava comunque utile e opportuno proporvi in questo webinar ricordarvi in questo webinar che esiste questa scadenza parliamo adesso però della dichiarazione di accessibilità anche in questo caso vi propongo un rapidissimo sondaggio anche qui sono è solo una domanda ve la propongo a video come prima vi chiedo quante amministrazioni hanno pubblicato la dichiarazione di accessibilità e se lo fanno con continuità cioè se ogni anno la scadenza del 23 settembre si ricordano di revisionare ed aggiornare la dichiarazione pubblicata sul proposito vedo con piacere che la metà di coloro che hanno risposto hanno sempre pubblicato la dichiarazione di accessibilità questo è molto importante tra l'altro è previsto anche in questo caso un inadempimento amministrativo in caso di mancata pubblicazione solo occasionalmente il 25% di voi mai il 20% quindi ci sono alcune amministrazioni che ancora non l'hanno fatto e qualcuno di voi ha risposto che non sa se è stata pubblicata questa dichiarazione per verificarla è molto semplice come vedremo se è stata pubblicata c'è l'indicazione di inserire il link nel footer del proposito quindi anche fare questa verifica è molto rapida perché potete andare sul vostro sito e vedere se nel piedi pagina è presente il link alla dichiarazione allora interrompo il sondaggio vi condivido i risultati come vedete insomma vi confermo quello che vedevo in tempo reale quasi la metà di voi hanno sempre pubblicato la dichiarazione e invece un quarto solo occasionalmente va bene allora torniamo a condividere la presentazione e adesso parliamo appunto della dichiarazione di accessibilità ancora qualche minuto a disposizione ho visto che c'erano delle domande magari aspettiamo alla fine per rispondere tutte insieme così nel caso magari nel corso dell'intervento rispondo ad alcune quando deve essere pubblicata la dichiarazione vi dicevo entro il 23 il 23 settembre di ogni anno quindi abbiamo ancora avete come amministrazione diverso diverso tempo è possibile farlo anche prima ovviamente non con mesi di anticipo perché la dichiarazione deve fotografare la situazione del sito o dell'app dell'amministrazione in quel determinato momento quindi magari avete messo in cantiere alcuni interventi sul sito aspettate di migliorarne l'accessibilità per poi effettuare una nuova verifica ed aggiornare di conseguenza la dichiarazione chi è tenuto a pubblicare la dichiarazione anche qui tutte le amministrazioni tutte le pubbliche amministrazioni quindi non ci sono distinzioni tra piccoli comuni o altre o amministrazioni centrali tutte le PA devono necessariamente esporre sul proposito la dichiarazione di accessibilità ve lo anticipavo già prima il tema dell'accessibilità ovviamente è stato inserito anche nel piano triennale nell'ultimo aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione in questo caso il target come vedete per il 2024 è molto alto si è posizionato la sticella come dire al massimo possibile viene richiesto che tutte sostanzialmente tutte le pubbliche amministrazioni devono pubblicare e oppure eventualmente aggiornare la dichiarazione di accessibilità questo per il 2024 per gli anni successivi ovviamente una volta che la la dichiarazione è stata pubblicata è opportuno che le amministrazioni comunque la revisionino e aggiornino sempre entro quella data del 23 settembre quindi se le vostre amministrazioni non sono tra quelle che hanno già pubblicato la dichiarazione questo è tra quegli obblighi che è opportuno mettere in agenda anche qui chi è responsabile del processo di pubblicazione lo stesso di prima abbiamo cambiato solo l'icona della della che rappresenta questo soggetto che come ben capite è centrale per tutti i discorsi che facciamo sulla transizione digitale quindi l'RTD è responsabile del processo di pubblicazione non necessariamente è colui che inserisce all'interno del sito Agit la dichiarazione di accessibilità è possibile delegare qualcuno ma è comunque l'RTD responsabile dei contenuti che vengono pubblicati come si pubblica la dichiarazione anche qui vi dicevo è necessario andare sul sito di Agit form.agit.gov.it accedere con la propria identità digitale quindi sempre con il proprio speed cercare l'amministrazione in questo caso richiedere una chiave di accesso che viene inviata via mail all'RTD cioè a colui che è registrato come tale come RTD sul portale IPA l'indice delle pubbliche amministrazioni quindi in ogni caso è l'RTD che deve eventualmente delegare qualcuno alla compilazione della dichiarazione a quel punto una volta ottenuta la chiave è possibile accedere alla sezione dei moduli disponibili cliccare sul link accedi al modulo e iniziare la compilazione della dichiarazione di accessibilità vediamo quali sono le sezioni previste in questo caso il modulo è più articolato rispetto a quello che abbiamo visto prima per quanto riguarda gli obiettivi di accessibilità e sono previste diverse voci che vi elencherò velocemente più avanti intanto una volta che accediamo alla sezione della la sezione dichiarazione di accessibilità sul sito Agid è possibile gestire più dichiarazioni questo perché un'amministrazione ovviamente potrebbe avere più siti un sito istituzionale un sito tematico un sito legato agli eventi un'app mobile e così via quindi attraverso questa interfaccia è possibile gestire le diverse dichiarazioni relative all'anno corrente per creare una nuova dichiarazione di accessibilità è sufficiente cliccare sul pulsante nuovo per accedere al modulo vero e proprio se avete già compilato nel passato la dichiarazione di accessibilità questa interfaccia potrebbe non essere potrebbe essere nel frattempo cambiata perché c'è stato un recente aggiornamento da parte di Agid del sistema e quindi potrebbe essere leggermente diverso le funzionalità principali comunque sono le stesse che dovreste già conoscere per modificare visualizzare o eliminare una dichiarazione di accessibilità già inserita all'interno del sistema è possibile cliccare su queste iconcine una volta che la dichiarazione è stata pubblicata cliccando sull'icona link è possibile visualizzare la dichiarazione che è stata pubblicata quindi ottenere il link che come vi dicevo va poi successivamente pubblicato nel footer del primo sito del proposito o nella apposita della sezione dello store da cui è possibile scaricare l'app mobile dell'app dell'amministrazione vi dicevo il modulo in questo caso è abbastanza articolato è opportuno è opportuno come dire preparare tutte le informazioni necessarie per la pubblicazione della dichiarazione la dichiarazione può essere anche salvata in bozza e aggiornata successivamente però una volta che vi preparate a pubblicare la dichiarazione è opportuno raccogliere queste informazioni intanto vi dicevo è indispensabile effettuare una verifica tecnica del proposito dell'applicazione mobile quindi questa attività questa verifica può essere svolta direttamente dall'amministrazione o da un ente terzo e serve appunto a verificare qual è il livello di accessibilità del sito di cui stiamo pubblicando la dichiarazione è opportuno poi compilare il modello di autovalutazione se si intende utilizzare quello previsto dalle linee guida Agid e quindi averlo a disposizione per poterlo allegare alla dichiarazione ed è indispensabile anche aver predisposto un meccanismo di feedback in caso di sezioni del sito non accessibili e che però è opportuno per cui è opportuno comunque dare delle modalità alternative per poter accedere alle stesse informazioni o soffrire degli stessi servizi per quanto riguarda la sezione 2 invece è necessario raccogliere una serie di informazioni sul proprio sito o sulla propria amministrazione in particolare la data di pubblicazione del sito sapere se è stato già effettuato un test di usabilità del sito conoscere qual è il CMS utilizzato per la gestione dei contenuti il numero dei dipendenti con disabilità e il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità anche queste potrebbero essere informazioni che l'RTD non conosce e che quindi è opportuno raccogliere prima di inserire la dichiarazione la dichiarazione vi dicevo è un modulo molto articolato lo vediamo ecco qui c'è uno screenshot dove lo vedete tutto in realtà questo screenshot non è più aggiornatissimo ma nella sostanza le informazioni che vengono richieste sono le stesse lo possiamo solo scorrere molto velocemente giusto per avere una panoramica appunto di quello che le amministrazioni devono fare quindi in una prima sezione vado a dichiarare che tipo se la dichiarazione si riferisce al sito web o un'applicazione è necessario indicare il nome l'indirizzo del sito e quali sono le specifiche tecniche di riferimento la sezione 1 è quella che invece vi anticipavo è quella più specifica proprio per la verifica di accessibilità e in questo caso in uno stato di conformità l'amministrazione dichiara se il proposito è totalmente conforme parzialmente conforme ai requisiti tecnici oppure non conforme se sono presenti dei contenuti non accessibili l'amministrazione deve anche dichiarare per quale motivo dell'onere sproporzionato vi ha accennato qualcosa Alberto nel suo intervento bisogna dichiarare appunto se i contenuti sono accessibili per quest'onere sproporzionato oppure se è semplicemente inosservata la legge oppure se il contenuto non rientra nell'abito della legislazione applicabile poi vi dicevo va anche indicato se la valutazione è stata fatta dall'amministrazione stessa oppure effettuata da terzi e nel caso se è stato utilizzato il modello di Agile qui vedete anche c'è la sezione relativa al meccanismo di feedback poi ci sono tutta un'altra serie di informazioni che vi avevo accennato e che è opportuno conoscere prima di andare a pubblicare la dichiarazione anche se poi è sempre possibile aggiornarla in un secondo momento allora vi dicevo non parleremo della verifica tecnica un argomento che meriterebbe un webinar a se stante dedicato richiede anche delle competenze abbastanza tecniche per poter fare una verifica approfondita quello che però vi volevo velocemente presentare è questo strumento che è stato realizzato dall'Agile in collaborazione con il CNR ed è lo strumento che viene utilizzato per fare ultimo quello di ieri se avete visto sul sito di Agile è stato pubblicato un monitoraggio automatico di 20.000 circa siti della pubblica amministrazione italiana è possibile utilizzare questo strumento che come viene dichiarato sul sito stesso non permette di andare a verificare tutti i potenziali problemi di accessibilità di un sito ma comunque supporta un esperto nella realizzazione di questa verifica tecnica sito sembra in inglese ma in realtà come dicevo è stato realizzato appunto dal CNR in collaborazione con l'Agile vi presento giusto la home page di questo sito quindi una volta entrato nella sezione per la verifica è possibile o indicare l'url di un sito caricare un file oppure inserire le porzioni di codice che è possibile validare vi presento questo strumento perché può essere un valido supporto esistono diversi però questo è quello che ha realizzato Agile che si sta evolvendo molto nel corso di questi anni molto interessante tra l'altro la possibilità di andare a fare una verifica tecnica anche dei non solo dei siti web delle pagine web ma anche dei file pdf quindi se avete realizzato dei contenuti che dovete pubblicare sul vostro sito in formato pdf può essere utile prima di pubblicarli andare a verificare se rispettano i criteri di accessibilità i principi e criteri di accessibilità come vi dicevo dove pubblicare la dichiarazione abbiamo detto nel footer del sito qual è il periodo di validità la validità della dichiarazione è dal 24 settembre quindi dal giorno dopo la scadenza la pubblicazione della dichiarazione fino al 23 settembre dell'anno successivo quindi questa dichiarazione se o va pubblicata per la prima volta ogni anno va comunque revisionata e aggiornata perché ovviamente le tecnologie evolvono anche la normativa evolve come diceva Alberto pochi mesi fa è stata approvata è stata rilasciata l'ultima versione delle linee guida per l'accessibilità dei contenuti web da parte del V3C e ci aspettiamo che nel prossimo che anche la normativa europea e italiana si adegueranno in merito molto velocemente perché il tempo a mia disposizione è quasi scaduto cosa succede in caso di mancata pubblicazione come vedete è previsto questo determina un inadempimento normativo così come previsto dalla normativa italiana quindi è opportuno utile ed è opportuno pubblicare questa dichiarazione anche qui riporto una serie di risorse utili per quanto riguarda gli esempi di dichiarazione di accessibilità anche qui vi ho riportato l'esempio di Agid e come vedete il link è pubblico ed è consultabile da chiunque proprio all'interno del sito form.agid.com.it curioso segnalare che la stessa Agid dichiara che il proposito è parzialmente conforme questo non deve essere considerato un alibi per non rendere i propri contenuti accessibili però ci fa capire anche che non tutto è così semplice come può sembrare è opportuno che il tema dell'accessibilità entri a vari livelli all'interno delle nostre priorità quindi a partire da chiedere al nostro fornitore un sito che sia accessibile ma come dicevamo anche prima fare in modo che un sito accessibile non venga reso inaccessibile da contenuti che vengono quotidianamente pubblicati sul sito non ho più molto tempo a disposizione quindi vado molto veloce su questa parte anche qui vi avevo raccolto un po' di dati presi sempre dal sito di Agid monitoraggio accessibilità vedete che nel 2023 sono state pubblicate oltre 16.000 dichiarazioni di accessibilità da parte di più di 11.000 amministrazioni questo perché ovviamente come dicevo ogni amministrazione può pubblicare anche più di una dichiarazione di accessibilità anche qui il trend è molto positivo sta crescendo ma questa percentuale del 43% da qui a settembre del 2024 almeno da quanto richiesto anche dal piano terrenale dell'informatica deve tendere ad arrivare al 100% delle amministrazioni ve lo avevo già anticipato come progetto FAST quello che mettiamo a disposizione delle amministrazioni è un microprogetto proprio su questo argomento l'obiettivo è quello di aiutare l'amministrazione a mettersi in regola sugli obblighi di accessibilità l'output quindi cosa viene realizzato attraverso questo microprogetto è proprio la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità del sito e anche un supporto nella definizione degli obiettivi annuali di accessibilità io ok allora grazie grazie a te vedo ci sono delle domande ma Irene penso che risponderemo alla fine allora rispondiamo alla fine perché siamo andati un pochino lunghi vorrei lasciare spazio alle colleghe appunto grazie ti ringrazio perché appunto è stata una carrellata velocissima una gran corsa però di cose molto interessanti per tutti noi chiedo a Claudio Forghieri a Valentina Pini e a Sonia Simonini di attiravare il loro audio e Valentina Pini e Sonia Simonini sono appunto dell'Unione dei Comuni Mondenesi dell'Area Nord e appunto con l'aiuto di Claudio Forghieri ci racconteranno un po' la loro esperienza nel comune su questi temi bene grazie Irene e grazie soprattutto alle nostre colleghe che si sono prestate per questa intervista mi scuso anticipatamente se sarò un po' provocatorio con le mie domande ma d'altra parte posso permettermi perché so che siete in gamba allora voi siete qui perché lavorate presso l'Unione dei Comuni di Modenesi Area Nord è un insieme di otto comuni che complessivamente fanno circa 60.000 abitanti ce ne sono anche un paio piccoli diciamo sotto i 5.000 abitanti quindi molto vicini al tipo di pubblico che abbiamo noi normalmente col progetto FAST ricordo anche che è un'area che è stata colpita drammaticamente dal terremoto 12 anni fa che si è ripresa anche peraltro molto bene io farei così se siete d'accordo prima farei qualche domanda sull'Unione giusto per inquadrare il contesto diciamo contestualizzare il vostro intervento poi passiamo al tema specifico dell'accessibilità allora la Voltra è un'Unione di otto comuni tutti diciamo piuttosto piccoli so che avete deciso di gestire il servizio informatico in forma associata allora la prima domanda è questa funziona il servizio in forma associata avete una piena omogenizzazione informatica vi danno retti i comuni oppure comprano il computer i software per quanto loro insomma ognuno fa per sé allora rispondo io in qualità di responsabile dei servizi informativi dell'Unione non sono responsabile da molto tempo e ha raccolto per fortuna un'eredità virtuosa lasciata dal mio predecessore l'Unione l'Unione di fatto è stata formata da lui per quanto riguarda il trasferimento dei servizi informativi all'Unione quindi parto da un buono zoccolo che è stata appunto la definizione di tutti gli atti che i comuni hanno predisposto in accordo con l'Unione per conferire il servizio in Unione diciamo che non è mai stata coordinata in maniera omogenea e nel momento in cui la nostra Unione purtroppo ha subito la perdita del comune capofila che è il comune più grande che ha deciso di uscire dall'Unione abbiamo avuto un certo scossone e abbiamo dovuto fare di necessità virtù nel senso che nel mio servizio da 13 persone siamo rimasti in tre e va da sé che non c'era nessun'altra competenza informatica sparsa per il resto dei comuni quindi abbiamo dovuto obbligatoriamente puntare verso un'omogeneizzazione e abbiamo scritto le regole d'incarico nel senso che mentre prima si manteneva comunque un'autonomia in capo ai comuni perché comunque c'era una guida di un ufficio piuttosto strutturato composto da molte persone che potevano indirizzarli nel momento in cui ci siamo ridotti molto di personale si è deciso di dare un'impronta forte di omogeneizzazione devo dire che questa cosa vista con un po' di stacco usciti dalla bufera ha portato grandissimi vantaggi non parlo solo di economia di scala ma parlo proprio di interscambio di personale di interscambio di competenze di collaborazione più forte per quanto riguarda tutti quelli che sono gli aspetti digitali complicità tra gli operatori quindi è stata una scelta vincente che è stata dettata da una necessità impellente di non disperdere le competenze le risorse in molti applicativi in molte gestioni separate ma di concentrare in una sola e adesso godiamo i vantaggi di questo ecco avete deciso di fare anche responsabile per la transazione digitale in forma associata io sono responsabile della transazione digitale dell'unione e di tutti gli otto comuni e al momento esiste un ufficio digitale un ufficio alla transazione digitale concentrato nel servizio informatico ma sto cominciando stiamo cominciando ad aprire un po' la vista sul fatto che nell'ufficio alla transazione digitale sia opportuno inserire competenze trasversali affinché sia più efficace quindi inserire tutto quello che riguarda la documentazione la gestione documentale la segreteria la normativa quindi a spot avere a disposizione dei colleghi che abbiano competenze specifiche in altri ambiti in modo tale che la transazione digitale diventi una cosa effettiva e efficace faccio un'altra domanda provocatoria do per scontato che tu personalmente non abbia avuto grandi vantaggi dall'essere RTD di otto comuni più l'unione ma secondo te invece i comuni hanno percepito un vantaggio da questa operazione sicuramente sì loro hanno ricevuto un vantaggio dall'operazione perché hanno un unico riferimento e devo dirla tutta non è vero che io non ho avuto un vantaggio perché per fortuna mi interpellano quindi riesco a concentrare le necessità cioè riesco a intercettare quelle che sono le necessità specifiche di ogni comune e farne una vista d'insieme cioè ogni cosa che mi richiede un comune io poi la spargo agli altri in modo tale che diventi un organo unico un'unica necessità strutturata io ho visto però che ognuno degli otto comuni più l'unione hanno un sito per conto loro e quindi qui ti faccio l'altra domanda provocatoria cioè secondo il vostro ufficio questi redattori che tengono dietro ai siti quanto ne sanno di accessibilità cioè sono sono solo persone che mettono su delle news e non hanno idea di quello che stanno facendo oppure sono preparate guarda io lascio rispondere la mia collega che relativamente ai siti e l'accessibilità è sicuramente il mio asso nella manica e il coordinamento l'ha fatto lei quindi lascio a lei la risposta con piacere buonasera allora sì io sono qua da qualche mese e ho trovato appunto già una situazione avviata da chi da chi c'era prima e abbiamo comunque lavorato per mettere in campo i nuovi siti grazie alla misura del 141 del PNRR e sull'accessibilità diciamo che non non c'era stata una formazione ad hoc però abbiamo colto l'opportunità dei corsi di formazione sul nuovo strumento sul nuovo CMS per dare anche qualche elemento di accessibilità diciamo che nella sfortuna di dover riscrivere i contenuti e quindi un impegno importante per i redattori abbiamo colto l'occasione per dire ok dal momento che li riscrivete utilizzate questi elementi di queste conoscenze di minima diciamo un kit minimo di istruzioni per farli in maniera per redigerli in maniera accessibile le redazioni sono distribuite quindi purtroppo sono comuni piccoli o medio piccoli quindi non c'è un redattore una figura che fa che ne so magari l'ufficio stampa che si occupa come parte prevalente del suo lavoro di questa attività quindi parliamo di persone che 36 ore a settimana fanno un altro mestiere devono ritagliarsi un'oretta o due per fare questo questo rende più difficile la formazione e anche la formazione sugli strumenti per redigere contenuti accessibili però devo dire la verità che ho trovato una collaborazione importante quindi non ho trovato nessuno che mi aveva detto che due scatole dove riscrivere tutto tenere conto anche di questo hanno cioè magari ho trovato più gente che ha detto ah sì non lo sapevo non è male che me l'hai detto perché adesso mi metto a scrivere le cose meglio questo è anche il contaggio scusa Sonia di avere un ufficio RTD centralizzato in cui appunto diventiamo il punto di riferimento per gli eventuali dubbi è questo il valore aggiunto sicuramente di avere una persona che risponde ai dubbi o che gli fa sorgere i dubbi anche se prima non c'erano adesso vi faccio un'altra domanda da un milione di dollari ma visto che siete appena passate ad avere i siti diciamo pienamente in ordine secondo le linee guida agit come da da PNRR siete contenti di essere passate a questo tipo di siti oppure avete avuto anche qualche diciamo momento di così perplessità diciamo che le linee guida sono una manna una manna caduta dal cielo perché intanto ci hanno scaricato di un onere che è quello dello studio di un layout del dover fare certe scelte e di sicuro per il cittadino saranno importanti perché viene molto valorizzata la user experience io so che in tutti i comuni d'Italia per fare la carta di identità clicco su servizi anagrafa stato civile la carta di identità la trovo lì dico la cosa più banale però insomma ci sono ancora magari alcune qualche tassonomie che forse potrebbero essere migliorate ma va bene insomma l'intento al 99% premiato abbiamo avuto qualche difficoltà sui layout relativi indicati dalle linee guida sui layout relativi alle prenotazioni abbiamo un collega che è non vedente deve è addetta al centralino prende gli appuntamenti per chi vuole fare una carta di identità oppure un cambio di residenza e si è trovato un po' in difficoltà sono pagine un pochino lunghe le linee guida sono quelle quindi il fornitore ha fatto il modulo aderente alle linee guida ecco però siamo un po' è un po' in difficoltà devo dire la verità segnalatelo e mi raccomando perché comunque Agile le riceve queste cose mi faccio l'ultima domanda perché ho visto che avete dei comuni che comunque sono molto attenti alla comunicazione tant'è vero che ci sono parecchi profili social sui siti vi chiedevo questo secondo voi la comunicazione social è sufficientemente allineata con quella del sito oppure va un po' per conto loro e lì social diciamo sono un mondo a parte diciamo che su quello un grande controllo noi dei servizi informativi non riusciamo ad avere molto in mano la parte politica la parte comunicativa e quindi va da sé che più parlando sempre di enti piccoli in mano al sindaco o all'assessore che utilizza social per distribuire informazioni vi dicendo quindi è molto meno intercettabile diciamo che tra i nostri intenti a tendere insieme agli adeguamenti che insomma sono iniziati ma non sono ancora terminati di tutti i nostri siti c'è anche quello di inserire un regolamento per quanto riguarda i social o comunque di creare una cultura per l'uso del social sotto questo aspetto è un discorso abbastanza in itinere in più ora ci sono anche le elezioni quindi stiamo aspettando un attimo di capire chi saranno i nostri interlocutori prima di iniziare una manovra di massa di sensibilizzazione insomma su questo tema sentite entriamo nel merito degli obiettivi di accessibilità visto che è una scadenza breve ora state lavorando sugli obiettivi immagino vi chiedo cosa privilegerete poi soprattutto immagino che sarà un bel lavorone attenzione che è una domanda provocatoria questa sarà un bel lavorone preparare nove diversi obiettivi di accessibilità per tutti i vostri siti oppure c'è il trucco cerchiamo di usare un trucco nel senso cerchiamo di fare necessità virtù poi come diceva giustamente Valentina pro e contro ma in questo caso avere un'unione avendo un unico referente un'unica figura sicuramente premiante ma sicuramente essendo appena partiti con nuovi CMS con una formazione sfruttiamo il momento e per quanto riguarda gli obiettivi cercheremo di essere pragmatici un po' come per il GDPR bisogna dire la verità e quello che si fa prometterlo e mantenerlo quindi meglio dire quello che si riesce veramente a fare e farlo quindi sicuramente punteremo sulla formazione perché è la base e soprattutto degli aspetti tecnici in questo momento e l'acquisizione di software e di hardware accessibile sia per il front che per il back office è dovuto per legge quindi anche questo è iniziato come punto di attenzione già con l'acquisizione dei software per i bandi PNRR e continuerà sicuramente e l'altra cosa sulla quale punteremo è dare sicuramente abbiamo realizzato i nuovi siti e realizzeremo stiamo in fase di ultimazione della realizzazione dei portali per i servizi online in questo momento ci stiamo concentrando molto sulle redazioni di contenuti dal momento che dobbiamo riscriverli che siano accessibili a 360 gradi non solamente sul faccio l'elenco puntato e non con i trattini faccio anche un contenuto lo riscrivo lo ripenso più semplice va in conto sicuramente alle disabilità o le difficoltà cognitive e di lettura in generale e ha di sicuro un obiettivo a costo zero perché non devo pagare nessun fornitore ma dal momento che li devo riscrivere e ho una pagina di 20 righe la devo riscrivere magari la penso di scriverle in 5 senza tecnicismi un po' più semplice quindi questi saranno i nostri obiettivi hai introdotto la prossima domanda che era questa ma nella vostra esperienza e io so che avete già fatto dell'esperienza cioè su questo siete sul pezzo quali sono le difficoltà maggiori all'applicazione delle regole dei principi dell'accessibilità nei comuni parlo dell'accessibilità a 360 gradi naturalmente cioè dov'è dov'è che bisogna cioè che si fa più fatica ecco anche mettendoci dell'impegno beh sicuramente il controllo nel senso che siccome sono progetti parliamo in particolare di quelli che sono i dettami del PNRR ti impongono di mantenere la soluzione per 5 anni e questo è un vincolo che ti costringe a mantenere la soluzione dichiarata all'inizio per i 5 anni e in tutti i casi se lo sforzo è stato fatto per creare e mantenere un sito accessibile è opportuno che gli sforzi minimi vengano mantenuti nel tempo altrimenti fra 5 anni ci troviamo a doverlo riscrivere da capo quindi il controllo e la continua formazione su personale che purtroppo negli enti pubblici credo che non sia una cosa che succede solo nella nostra unione che purtroppo avendo subito il terremoto ha subito un forte turnover perché il personale c'è stata una forte iniezione di personale interinale nelle fasi immediatamente successive al terremoto che è perdurato per molto tempo questo ha fatto sì che molte persone portassero via le competenze nel momento in cui hanno trovato locazione altrove quindi il controllo la continua formazione il turnover di personale è sicuramente la cosa più difficile da gestire però ancora una volta se tutti i comuni accettano il mandato che tutto quello che riguarda l'informatica l'accessibilità il sito gli applicativi si concentra in un unico ufficio in pochi interlocutori e questo ufficio e questi interlocutori danno loro delle risposte delle guide è più facile mantenere la regia e anche mantenere uno standard alto a cui noi tendiamo perché io il consiglio che vi do che do a tutti e anche alla luce proprio di queste diciamo norme del PNRR che mettono in discussione anche i finanziamenti e così via è comunque di mettere giù qualcosa di scritto cioè il regolamento per la gestione del sito così è importante perché per definire bene chi fa cosa sul sito sui social e di chi sono le varie responsabilità assolutamente l'ultima domanda anzi la penultima ma l'ultima è veloce e com'è il rapporto con i fornitori rispetto a questi temi cioè sono di supporto vi aiutano a capire cosa bisogna fare oppure per loro è solo business e vi dicono sì sì tutto accessibile è finita lì no devo dire che non abbiamo trovato degli ostacoli è un tema parallelo che gli complica la vita sì però non abbiamo trovato sono ecco più andiamo avanti più sono sull'attenti sull'argomento anni fa probabilmente lo consideravano meno adesso sicuramente per loro è importante quanto realizzare un front e un back office accessibili possiamo ad esempio per il nostro caso appunto abbiamo questo nostro collega che è non vedente e ci sta aiutando insieme all'azienda a fare dei test e perché così proprio sul campo è importante avere una persona che possa essere disponibile generalmente sono molto insomma per per provare in diretta e vi chiederei ancora un sacco di cose ma ormai l'orario è tardo vi faccio l'ultimissima domanda al volo allora ci stanno ascoltando e soprattutto vi vedranno anche dopo nella registrazione tantissimi piccoli comuni qual è il consiglio che date loro diciamo per lavorare bene su questi temi della transizione digitale dell'accessibilità ma se posso rispondere vista anche la mia esperienza sicuramente visto che i piccoli comuni hanno poco personale e molte molti adempimenti per quanto riguarda l'informatica immagino che non abbiano molto tempo e molta specializzazione per affrontare l'argomento sicuramente quello di unirsi quindi sicuramente quello di individuare un servizio informativo e un ufficio alla transazione digitale unificato quindi creando associazioni convenzioni qualsiasi in Emilia Romagna abbiamo le unioni quindi per noi viene abbastanza naturale appoggiarsi a quello che può essere l'ente unione ma a qualsiasi forma di associazione per concentrare a chi ha una specializzazione forte verso l'informatica il digitale l'accessibilità tutte queste tematiche all'interno di un unico ufficio più strutturato e visto che le pubbliche amministrazioni si muovono per atti scritti definire le regole di ingaggio quindi nella convenzione che ci sia ben scritto chi fa che cosa come suggerivi prima chi fa che cosa come lo fa e per quanto tempo lo deve fare chi deve rispondere quindi banalmente da chi deve comprare il computer a chi deve invece contrattualizzare un fornitore le regole di ingaggio se sono scritte bene e il mandato è chiaro sicuramente porta grandi vantaggi e sicuramente la parte digitale informatica diventa sempre più spinta tecnologicamente non si può pensare di lasciarla in mano ad un segretario comunale che ha competenze di altra natura per quanto riguarda il digitale quindi rimane nell'ambito dell'ufficio digitale sicuramente ma il responsabile secondo me dovrebbe essere una persona più tecnica unito ad una squadra con altre competenze trasversali bene Sonia e Valentina io vi ringrazio tantissimo Irene a te la linea grazie veramente a tutte voi grazie di averci portato questa esperienza insomma oggi è stata insomma un bel esempio di quello che si può fare sono arrivati tanti suggerimenti che credo saranno utili insomma per tutti i comuni che sono adesso online con noi e comunque anche quelli che appunto ascolteranno il webinar successivamente voglio dato che siamo andati un po' oltre l'orario voglio soltanto ricordare che appunto se ci fosse qualcuno dei referenti dei comuni che appunto non è stato ancora da noi contattato noi con molti di voi stiamo con molti comuni ovviamente stiamo già lavorando ormai da tempo insomma dalla prima dell'estate scorsa però ecco qualora ci fosse anche un interesse appunto ad avviare diciamo l'attività con noi vi preghiamo insomma di sollecitarci e appunto avete diciamo tutte le le nostre le nostre mail e quindi ci potete anche direttamente scrivere quello che volevo ricordare rispetto alla prossima il prossimo incontro che avremo il 22 marzo scusate che ho un po' di difficoltà con la condivisione con i due schermi ecco qui spero che vediate ci sarà appunto un webinar sulla sicurezza delle informazioni dalla politica della scrivania pulita alla gestione degli incidenti di sicurezza informatica non diciamo in generale ma proprio diciamo parleremo delle attività diciamo che possono essere fatte appunto in un comune che debbono essere fatte delle attenzioni che debbono essere messe diciamo su questo tema e vi ricordo alle domande diciamo i colleghi hanno risposto direttamente nella chat qualora appunto ce ne fossero altre potete scriverci direttamente e vi chiedo anche la cortesia come ho già detto prima di compilare il nostro questionario sul quale sarete rindirizzati alla chiusura diciamo di questo incontro quindi ringraziandovi della partecipazione e ringrazio tutti quanti voi e vi rinvio appunto al 22 marzo per il prossimo webinar grazie ancora a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti